Germanico Caio Giulio Cesare Claudiano Germanico, nato nel 15 a.C., generale romano in seguito alla sua adozione nell'Agenzi Iulia da parte di Tiberio nel 4 d.C., mutò il nome originario di Claudio Nerone Germanico. Figlio di Druso Maggiore di Antonia Minore, nipote di Augusto, ereditò l'appellativo di Germanico proprio dal padre, che l'aveva ricevuto come onorificenza per essersi distinto nelle guerre contro i Germani tra il 12 e il 9 a.C. Cominciò prestissimo la sua breve ma prestigiosa carriera militare e politica e si distinse anche come uomo di lettere e come pater familias, esemplare. Già quest'ora nel 7 d.C. fu al fianco di Tiberio, ora suo padre adottivo, nel sedare la rivolta dei Pannoni e dei Dalmati. Nel 10 divenne pretore, nel 12 fu eletto console, con un anticipo straordinario di 5 anni sul normale cursus honorum. Molti furono in questi anni le spedizioni coronate da successo. I romani si spinsero fino al fiume Weser e arrivarono persino alle coste del mare del nord, nei territori dei Frisoni e dei Cauci. L'anno successivo gli fu dato ad Augusto il compito di vigilare sulla frontiera del Reno, che dopo la disfatta di Teutoburgo del 9 d.C. era divenuto uno dei territori più temibili dell'impero. Morto Augusto vi fu una sollevazione delle legioni, ma lui la gestì egregiamente. Così, scrive Tacito, si rivolse loro. Che cosa in questi giorni non avete osato fare senza ritegno? Che nome darò a questo assembramento? Dovrei forse chiamarvi soldati dopo che avete assediato con armi e trincee il figlio del vostro imperatore? O forse cittadini e il nome che meritate dopo che avete disprezzato fino a questo punto l'autorità del Senato? Voi avete infranto ciò che è sacro anche presso i nemici, le inviolabili ambascerie e il diritto dei popoli. Al divo Giulio bastò una sola parola per arrestare una rivolta dell'esercito quando chiamò quiriti quelli che infrangevano il giuramento cui si erano legati. Il divo Augusto solo con la sua presenza e lo sguardo seppe atterrire le legioni reduci da azio. Noi, che non siamo alla loro altezza e tuttavia discendiamo da quelli, se un soldato di Siria o di Spagna ci recasse oltraggio come avete fatto voi, lo riterremmo un fatto incredibile e indegno. E voi, soldati di quella prima legione che ha ricevuto le insegne da Tiberio, e voi della ventesima, che gli è stata compagna in innumerevoli battaglie e che ne ha ricevuto tante ricompense, questa bella gratitudine mostrate dunque al vostro generale? Ripristinato l'ordine tra i suoi, li diresse poi contro Arminio, capo dei Germani, nella battaglia di Staviso. Le precedenti spedizioni avevano insegnato molto a Germanico. Dopo aver allestito una flotta per il suo esercito, il grande generale guidò le legioni lungo il canale che già suo padre Druso aveva fatto costruire fino al fiume Weser. Dopo alcune provocazioni da parte di Arminio, che era già appostato sull'altra sponda del fiume, Germanico decise di passare all'azione. Fatti costruire alcuni ponti durante la notte, pensava intanto a come sfruttare la maggiore agilità dei suoi soldati. Tacito ci racconta un particolare assai suggestivo. Il generale fu attratto da un bellissimo presagio, otto aquile si dirigevano verso i boschi e vi penetravano sicure. Egli allora gridò ai soldati di proseguire seguendo gli uccelli sacri a Roma, nomi tutelari delle legioni. Nel corpo a corpo, viste anche le enormi dimensioni di scudi e lance dei barbari, i romani potevano infatti essere molto più rapidi persino nel cuore della foresta, proprio là dove i germani tendevano ad attirarli. Il giorno dopo, gli ausiliari galli e germani seguiti dagli arcieri avanzarono precedendo quattro legioni e Germanico alla testa di due corti pretorie e della cavalleria. Quattro altre legioni e altre truppe ausiliarie chiudevano lo schieramento. I barbari li aspettavano nella piana di Idistaviso, un luogo che essi consideravano ideale, soprattutto per la presenza di un'ampia foresta alle sue spalle. Fu Arminio a dare inizio allo scontro, i suoi cherusci attaccarono da un'altura urlando e precipitandosi contro i romani. Rispose la cavalleria di Germanico che li accerchiò, mentre l'affanteria romana compiva la stessa manovra contro l'altra porzione di esercito barbarico rimasta immobile sulla piana. Crive Tacito. L'affanteria leggera già cedeva all'urto delle formazioni serrate dei germani quando Cesare, a corso a cavallo presso la ventesima legione, a gran voce cominciò a dire che era quello il momento adatto per cancellare l'onta della rivolta e che quindi avanzassero gli uomini per convertire velocemente il disonore in gloria. Allora il coraggio dei soldati di Van Poe e in un assalto compatto respinsero il nemico, ricacciandolo allo scoperto e facendone strage. La tenaglia romana fu efficacissima e stritolò in breve gran parte dei nemici, portando un enorme scompiglio tra le file di quelli. La furia dei romani e la loro sete di vendetta poterono finalmente scatenarsi. Un nugolo di frecce fu scoccato dagli arcieri, sommergendo e insanguinando i corpi sui quali piombavano. Arminio stesso, ferito, si coprì la faccia di sangue per mascherarla e fuggire non riconosciuto, ma migliaia dei suoi caddero sul campo e a notte i corpi dei barbari coprivano un'area di dieci miglia. Germanico stesso, per essere meglio riconosciuto, si era scoperto il capo e incitava i suoi a che insistessero col massacro. Non fate un solo prigioniero, diceva, perché soltanto con lo sterminio completo sarà possibile mettere fine alla guerra. Nei giorni successivi i barbari tentarono una riscossa e fu tale la loro rabbia e sete di vendetta che per poco non ebbero la meglio. Ma Germanico, che ormai sapeva come agire contro di loro, riuscì ad accerchiarli nuovamente e dopo aver fatto scagliare una nuova pioggia di frecce, comandò alla fanteria di affrontare gli imponenti nemici, tenendo lo scudo vicino al petto e la mano ben stretta sull'impugnatura della spada, trafiggendoli come furia. Nessun prigioniero doveva essere fatto, ma tutti massacrati perché solo il loro sterminio avrebbe posto fine alla guerra. In nome di Tiberio, cheppure non si era mai mostrato d'accordo a questa spedizione, Germano aveva sanato una vecchia e atroce ferita e aveva almeno ristabilito l'onore di Roma. Dopo averlo dato i vincitori tutti riuniti, Germanico eresse un trofeo di armi, sopra cui pose come iscrizione, debellati i popoli tra Reno e Alba, l'esercito di Tiberio Cesare questa testimonianza ha consacrato a Marte, Giove e Augusto. Non aggiunse nulla su se stesso e lo fece sia per non suscitare invidie, sia perché convinto che la sola coscienza dell'impresa fosse più che sufficiente per appagarlo. Germanico recuperò anche due delle tre aquile, simbolo delle legioni disfatte nel 9 d.C. a Teutoburgo. Il piano che era stato di Augusto sotto Tiberio era stato però definitivamente messo da parte. Germanico, che come il precedente imperatore almeno fino a Teutoburgo mirava alla conquista dei territori fino all'Elba, nonostante avesse ottenuto innegabili successi, fu costretto a rinunciare all'impresa. Tiberio, nuovo imperatore, assisteva da Roma al crescere della popolarità di questo giovanissimo generale. Le stesse legioni di stanza sul Reno avevano inneggiato a Germanico come nuovo princeps quando Augusto era morto. Ma la lealtà di Germanico era sempre stata fuori discussione. In proposito, ci racconta Tacito. Allora, dopo aver esordito con parole di venerazione per la memoria di Augusto, passò a magnificare le vittorie e i trionfi di Tiberio, celebrando specialmente le splendide imprese che egli aveva compiuto in Germania, alla testa di quelle stesse legioni. Quindi esaltò il benvolere dei popoli d'Italia e la fedeltà delle gaglie, precisando che in nessun luogo si erano verificati disordini o segni di ribellione. Questi discorsi furono accolti con il silenzio o con un modesto sussurro. Pertanto Tiberio lo richiamò a Roma per il trionfo dovuto ai successi sui Germani, ma poi lo inviò in missione diplomatica dove comunque Germanico seppe farsi valere. Qui, dotato di imperio maius e proconsolare su tutte le province orientali, riuscì a risolvere un dissidio dinastico in e regolò i rapporti con il bellicoso popolo dei parti. In Siria dovette scontrarsi non solo verbalmente con Calpurnio Pisone, nominato da Tiberio governatore della regione ma soprattutto inviato dall'imperatore perché lo controllasse. In questa occasione emerse la figura della moglie di Germanico, Vipsania Agrippina, sposata quando il figlio di Druso aveva 19 anni e che fu donna di straordinario carattere e tenacia, capace di difendere il marito persino con ostinazione. Agrippina, nipote di Augusto, diede nove figli, tra cui Caligola e Agrippina minore, poi madre del futuro imperatore Nerone. Germanico, che era uomo di ingegno oltre che di spada, organizzò un viaggio nella primavera del 19 in Egitto. Questa trasferta, della quale non aveva informato Tiberio, fu concepita come viaggio di studio e di piacere, ma quando tornò, pare ammalato di un male sconosciuto, le sue condizioni di salute peggiorarono improvvisamente fino a condurre alla morte. Venivano in questo modo deluse ancora una volta le aspettative della popolazione, riferisce Tacito. Grande era stato in quegli anni presso il popolo romano il ricordo di Druso e si era ritenuto che se fosse andato al potere avrebbe restituito la libertà. Da qui proveniva il favore anche per germanico, in cui si riponeva la stessa speranza. Il giovane infatti possedeva uno spirito liberale e modi estremamente cortesi, assai diversi dal modo di parlare dal volto stesso di Tiberio, sempre altezzoso e impenetrabile. I sospetti di avvelenamento, visto anche il netto peggioramento dei rapporti con Pisone, dovuto al fatto che questi, in sua assenza, aveva annullato dei suoi personali provvedimenti, si stesero come una lunga ombra che lambì la stessa figura dell'imperatore. Si sa che Agrippina, la coraggiosa moglie di Germanico, ricevette da lui l'incarico di vendicarlo. Tiberio lasciò che in senato fosse istruito un processo e nonostante nessuno fu capace di avvalorare con prove l'accusa di omicidio, Pisone, su cui gravavano ormai e atroci sospetti, trovò la morte per sua stessa mano. Il rimpianto per la morte di Germanico a Roma fu immenso. Con lui, l'impero perse un uomo nel fiore degli anni e uno straordinario capo, generoso e potente. Il suo valore di militare, ma anche lo spirito di umanità straordinaria che dimostrò, lo resero uno degli uomini più amati del suo tempo. Dotato di una non comune capacità oratoria e di una cultura assai vasta, fu persino scrittore di commedie, tra le altre cose di una versione latina dei Fainomena di Arato, un poema greco sull'astronomia resa in 725 esametri. I versi di Buona Fattura furono dedicati forse immeritatamente a Tiberio e mostrano un uomo sensibile ma assai scettico circa la religiosità del tempo. Il suo amore per i figli e la moglie Agrippina ne fecero un marito e padre esemplare.